Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova analisi ciclica evoluta sullo Standard Impulse 500. Non facciamo trading su questo mercato, ma alcuni di voi mi hanno chiesto un'analisi per cui è corretto che mi muova e che appunto segnali che cosa vedo effettivamente. Prima di tutto, partiamo dall'indice. Qui abbiamo avuto il nostro primo tp2 con chiusura a 36 barre. Successivamente sono ancora dibattuto tramettere la chiusura qua del secondo oppure mettere semplicemente un ipotetico tre tempi, 1, 2, 3, con partenza del nuovo movimento qui. Nella realtà, difatti, questo minimo è a 2.965, questo a 2.999, non siamo particolarmente distanti. Quindi, in questo momento preferisco, prediligo sicuramente questo, in modo che potremmo dire di aver avuto un primo tp3 trimestrale a 67 barre tre tempi. Tre tempi va molto di moda, devo dire, in questo periodo. E successivamente la partenza del secondo tp3 trimestrale, che è già confermata con una salita per un, oltre un tp1, per il resto. Mentre invece qui, capite, c'è un ritorno per cui non è proprio il massimo della vita. In questo modo possiamo anche andare a fare la scissione, poi, del tempo, appunto, su questo secondo t-3, che è t più 3 trimestrale, che essendo composto da un primo t più 2 e da un primo t più 1 e da un primo t, che sono partiti tutti da questo minimo qua, primo t sappiamo che si è chiuso qua, da qui è partito il secondo, sappiamo che siamo in chiusura di t più 1. Un t più 1, peraltro, che sta durando già tanto, è sul massimo delle durate, ovvero su 19 giorni, su massimo 21. Ma massimo, 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 che si vede abbastanza raramente. Quindi, se anche volessero prendersi ancora un giorno o un minimo di discesa, va bene. Successivamente, mi aspetto salita, ok? Nella realtà dei fatti, la salita potrebbe già esserci, assolutamente sì. Perché? Perché abbiamo avuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, forse 7, 3198, 3200. No, per due tic non abbiamo avuto 7 candele ribassiste per andare a chiudere un semplice t più 1 bisettimanale. Un bisettimanale, un t più 1, necessita di un t meno 2 a ribasso come ciclo. Qui, altro che, due candele a ribasso. Ne abbiamo, vogliamo prenderne poche? 5, 6. Per cui, qui abbiamo più che la condizione minima per la chiusura del t più 1, di questo t più 1. Per cui si può tranquillamente, dal lunedì, riprendere a rimbalzare. Bisognerà vedere a che punto siamo di t meno 3, sui singoli t meno 3, su questo secondo t settimanale. Però, ripeto, le durate sono ampie, ok? E' vero che ne abbiamo già visti tanti di cicli lunghi. 11, qui cosa avevamo fatto? Appunto, 11 giorni, d'accordo, ok. 11 giorni, un 8 più 8, che è una durata media. Qui abbiamo di nuovo, lunghissimi. 10 più 11, più 10, più 10, più 9. Capite? Se andiamo anche a prenderci i singoli t più 1, primo t più 1, 19 giorni, esattamente la durata che abbiamo in questo momento. Altro t più 1, questo è semplicemente medio, ok, 16 giorni. Qui siamo nella media, noi siamo già a 3 giorni oltre la media di durata. Qui che cosa abbiamo su questo t più 1? Siamo arrivati a 21 giorni, massimo possibile. E qui abbiamo fatto il nuovo 10, più 10 e in questo momento insomma 9. Siamo molto lunghi l'indice come cicli. E ciò sta provocando effettivamente anche delle belle problematiche su inverso, che non riesce a seguire. Ovvero, dopo aver visto il nostro indice con la possibilità già da lunedì di ripartire il rialzo, ma la possibilità di arrivare anche a 10, e lo vedremo dai future, dall'apertura, dai volumi, dagli swing, sono un analista quantitativo, non sono un mago, ok, possiamo vedere anche che cosa succede di inverso. Inverso, 31 barre, abbiamo il nostro primo t più 2. Da qui, dato che stiamo per ora avendo una buona spinta, non so se stia partendo appunto il secondo t più 2 inverso, sempre a ciclica dei massimi, oppure potrebbe arrivare anche il quarto t più inverso. Per ora comunque c'è stata una buona spinta a ribasso, opto per il discorso appunto per ora, che stia partendo appunto un secondo t più 2 inverso. Però, se guardate, 1 abbiamo 31 barre, quindi la durata non è particolarmente lunga, ok? Secondo abbiamo avuto un percorso estremamente tortuoso e con una quantità di finte pazzesca. Qui siamo arrivati a 8 barre, e va tutto bene. Qui abbiamo 1, 2, guardate bene qua, se io parto da questo massimo, dal massimo di quella candela arrivo a questo, siamo a 10 barre, quindi ci sarebbe, ma c'è stata questa finita, finita rialzo con ribasso, e siamo ritornati praticamente, parlo sempre di inverso, serve il rialzo, ma è il ribasso per l'inverso. Siamo ritornati a 31.555, 31,5, abbiamo sbagliato di un tic, questo è un raccordo. Successivamente, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto, da questo massimo, dal massimo di questa candela, quella del 23 giugno, se arriviamo a questo massimo qua, abbiamo 13 giorni, quindi, o abbiamo un 6 più 7, o abbiamo un 7 più 6, oppure, non so, perché, qui, siamo già oltre i 7, qui, c'è una chiusura canonica, a 9 barre, corretta, da questo massimo, a questo massimo, e qui sono solo 4 giorni, quindi questo è un altro raccordo. capite che abbiamo già due raccordi inversi, da 6 barre complessive, è un t settimanale, tantissimo, per cui, nonostante tutto, nonostante le tantissime finte, il trend è continuato a essere in salita, adesso vediamo un po' di discesa, per far partire un tp2 inverso, abbiamo bisogno, per lo meno, di un sottogrado di, due cicli, inversi, a rialzo, di inverso, quindi a ribasso, di un indice, per cui, possiamo aspettarci, dopo un po' di spinta, a ribasso, poi di nuovo, una chiusura di, terzo t meno, terzo, no, di, t meno, 1, inverso, e poi una ripartenza, ok? Per cui, mi raccomando, fate attenzione, perché il trend di fondo è, iper, rialzista, iper, 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 rialzista, e quando è così, un trend di fondo, a parte che si rischia qui, appunto, un quarto t, un quarto t inverso, un quarto settimanale inverso, perché in questo caso, l'inverso, cosa abbiamo fatto? Abbiamo avuto, 1, 2, 3, 4, non tre tempi come l'indice, e quindi nulla ci vieta che, 1, 2, 3, e manchi il quarto che, appena supererà questo massimo, a 3.279, ci darà conferma del fatto che, appunto, qui può essere partito tranquillamente, anche soltanto il quarto t inverso. occhio, ripeto, occhio, è tutta una questione di volumi, e di swing, per cui, vediamo lunedì che cosa succede, se, riparte di slancio, e a quel punto lì, con due candele, abbiamo, la condizione minima per la partenza, di un t inverso, e questo è lo swing, il riferimento, a 3.279, se è violato rapidamente, la lunedì in avanti, avremo il nostro quarto t inverso, viceversa, se la spinta proseguirà verso il basso, avremo la partenza del nostro secondo t più 1 inverso, ok? Quindi qui effettivamente, ho un po' esagerato a mettere già questa roba qua, posso mettere tranquillamente, anche soltanto un semplice, t inverso, ok? E questo va controllato, tutto qua. Io ringrazio per, per il vostro ascolto, ripeto, tenete d'occhio, due swing di riferimento, che sono importantissimi, per il proseguire della salita, per la discesa, nei tempi ciclici adeguati, ovvero, i 3280, che se violati, prima della, quarta, quinta candela, ci continueranno a portare, comunque, il rialzo, anche dopo la terza, nella realtà dei fatti, per tutta la durata eventuale, di un altro t inverso, di questo t inverso, e tenete anche d'occhio, questo livello, perché comunque, a livello di t settimanale, noi siamo già ampiamente, a posto con, la condizione, sufficiente, e oltre la sufficienza, per la chiusura, non solo appunto del t, ma anche del t più uno, per cui le probabilità, che si salgano, per me, sono un po' più alte, rispetto a quelle, che si prosegue a, a scendere, oltretutto, questa candelina, guardatevela bene, è un hammer, e quindi l'hammer, dovrebbe portarci a, positività, d'accordo? Quindi se avessi una pistola puntata in bocca, e dovessi a tutti i costi fare un trade, valuterei eventualmente, ovviamente dopo l'apertura, di riprendere la tendenza principale a rialzo. Questo è quanto, vi auguro una splendida domenica, e alla prossima. Mi raccomando, se l'analisi vi ha dato qualcosa, pacca sulla spalla, avere un like, sottoscrivete il canale, che è gratuito, e clic sulla campanella, per avere, l'avviso, del nuovo video, che è arrivato. Arrivederci!